Vi chiedo e mi chiedo quanto tempo è passato da quando il grande filosofo buddista Wu Lin espose la propria teoria che si potrebbe riassumere nell'assunto Tonkyo, fa ciò che vuoi. A quando il grande filosofo Zheng Lin Po, forse secoli dopo, postillò Tonkyo, Wu Yinguo, fa ciò che vuoi, basta che non rompi i coglioni.